mamma mia ragazzi incredibile ragazzi guardate qua che cosa c'è è pazzesco siamo fermi in via Sant'Isidoro pazzesco guardate guardate qua guardate che forza che diluvio è pazzesco quello non è un tombino è la testa di un tombino è grandina e ci siamo blottati grazie a tutti grazie a tutti